Tonello e Sara Allegri, una vittoria 3-0 contro la prima in classifica. Iniziamo dal capitano. Sì, siamo molto contenti, ce l'abbiamo messa tutta e direi che ha funzionato, quindi siamo veramente contenti. Abbiamo portato tre punti a casa che sono preziosissime. Sara, dopo un inizio di campionato un po' zoppicante, adesso state prendendo il largo. Sì, ora stiamo prendendo un po' la mano, abbiamo iniziato un po' a conoscerci e stiamo iniziando a mettere quello che il nostro allenatore Mario Barigioni ci sta insegnando ogni allenamento e stiamo migliorando sempre di più partita o partita, quindi sono molto pubblici e contente per cui sta andando. Speriamo continui ad andare così e cerchiamo sempre di migliorare partita o partita. Com'è ritrovarsi ad essere capitano a 20 anni di una banda di ragazzine che sono ragazzine terribili? Cavolo, è un ruolo davvero importante e sono davvero felice di essere qui, la posizione della Setteco. Infatti ringrazio davvero tutti i tecnici, tutto lo staff perché mi hanno dato una responsabilità e sono veramente felice. Comunque tutte le ragazze mi supportano e quindi è il mio ruolo marginale. Una dedicatesta, Sara? Forse i miei genitori, sono tornata a casa quindi un bacio ai miei genitori, anche io, sono qua, mio padre anche mi segue come medico e dai.